buongiorno 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 a te come va il day after del lancio della bomba ma dai bene nel senso che la risposta è stata è stata forte insomma incredibile sì sì quindi no questo questo ci ha almeno mi ha reso molto molto contento spieghiamo per chi è arrivato qui che non so perché ma era saltato una puntata o le ha saltate tutte iniziamo dall'ultima vediamo cosa succede esatto allora caro caro ascoltatore che sei appena arrivato stiamo per chiudere se non è ancora staccato per andare ad ascoltare montemagno ti possiamo dire che l'ultimo episodio il penultimo quello che hai voluto saltare in quello si parlava della possibilità che anche in creativiti chiuda e ci sono dei motivi vuoi dirli tu velocissimo si stiamo facendo ragionamenti come renderlo sostenibile eccetera vedremo come va e a fine dicembre tireremo una riga e capiremo se il podcast è sostenibile o meno per cui abbiamo lanciato questo messaggio e il riscontro è stato fighissimo intanto grazie insomma tutti quelli che ci hanno scritto no però ci sono sono arrivati un sacco di messaggi sia nei social anzi tra l'altro se ci siete posso leggere alcuni vai tranquillo sono molto belli allora c'è lorenzo che scrive dai ragazzi uscite liban non scherziamo e questa è sempre questa cosa di uscite fa sempre ridere gabriella siete bravissimi fate un patreon la francas ma siamo matti mettete opzione di supporto economico e questa è una formula carina no mettete opzione di supporto economico carolina vai di donazioni giovanna no no non è tra le scelte possibili non si chiude in un'iniziativa come la vostra non si può qui musica drammatica è stata il messaggio mi è piaciuto di più è di sara che prima o poi voglio voglio chiamare e metterla dentro una puntata per capire meglio cosa fa e dice no vi prego mamma lavoratrice è me per forza anche casalinga voi rendete utile il tempo frustrante delle faccende domestiche stimoli 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 scintille di passione vi prego non chiudete voglio sentirla no ma soprattutto c'è che tipo di asperapolvere hai così silenzioso quindi no avrà un dyson infatti dopo parlerò di dyson io ah sì fai questo spoiler sui link ok comunque ragazzi ci stiamo lavorando no grazie che sono arrivati questi messaggi di supporto che ci fanno molto piacere ovviamente altri messaggi di suggerimenti concreti e ci stiamo lavorando infatti sono un sacco di idee buone e vi teniamo aggiornati sì assolutamente assolutamente intanto stiamo lavorando per voi prima di adesso di buttarci con questo scambio di link paio di anticipazioni no sulle prossime interviste allora avremo francesco costa del post grande e anche del morning podcast del post sì che io voglio capire a che ora si sveglia per fare la rasse glielo chiederemo glielo chiederemo si sveglia come te alle 5 può essere mentre tu mediti e dai da mangiare gatti lui si legge tutti i giornali vedi la differenza ognuno fa le sue scelte avremo nicolò santin di gamindo che abbiamo già intervistato ma l'abbiamo chiamato per fare una sfida colpi di link con il suo socio probabilmente per cui avremo tutto gamindo probabilmente tra l'altro noi lo incontreremo quando sarà già stato all'incontro con ilon musk sì esattamente ci ha detto che è riuscito a trovare i biglietti di questa conferenza torino con ilon musk quindi gli chiederemo sì adesso lo è da vicino sai quelle domande è alto e basso ma soprattutto sei riuscito a convincerlo a fare un altro tweet sui doge che qui esatto che tu ce li hai il crypto wall il crypto wallet piange poi avremo giulio ravizza che head of marketing di facebook e instagram la domanda sugli occhiali ti scapperà ovviamente eh sì sono appena usciti sì sì e tu stai lavorando per portare all'interno del nostro podcast i manetti fratelli manetti sì manetti bro come sta andando gli stai stoccherizzando ma stanno girando diabolic 2 3 sai com'è sono quelle cose per cui no però insomma fortunatamente insomma ci conosciamo da un po per cui diciamo sai quelle cose tipo dai fammi un favore però esatto va bene va bene link inziamo il nostro scambio di link vai vado io allora e visto che siamo anche un po in tema economico e di sopravvivenza ma non solo in generale ho trovato questa survey di fatta da con oltre 10.000 freelance in giro per il mondo freelance che però guadagnano almeno 70.000 dollari l'anno per cui insomma freelance di un certo tipo diciamo nel campo del freelance cioè non c'è l'idraulico c'è non c'è l'idraulico c'è allora ti dico ci sono sei categorie che hanno intervistato che sono prodotto scrittura marketing social design ok allora intanto ci sono dei dati molto interessanti 10.000 persone sono tante non sono poche quante ore lavori a settimana ok e il 50 per cento 30 40 e il 20 per cento più di 40 classiche 8 ore al giorno quindi diciamo il 70 per cento lavora da 40 ore in su e poi c'è un 22 per cento che fa 20 30 ore quindi quasi un part time rinforzato e poi il 10 per cento da 10 a 20 che sono quelli probabilmente che vengono pagati di più per lavorare il giusto e poi altra statistica importante quanti progetti fai contemporaneamente che è una delle grandi problematiche del freelance quelli che ne hanno di più in media quattro sono quelli che si occupano di marketing e di social quelli che ne hanno di meno sono quelli che fanno engineering quindi che ne hanno solo due di media chi fa design writing e product ne ha tre secondo questa survey altra cosa rapidissima è molto bella questa presentazione perché è interattiva per cui è molto molto tu puoi vedere rispetto a come sto messo io nel resto del mondo esattamente adesso non so se c'è in mente una funzione che ha messo la nuova app di intesa san paolo c'entra niente però ok mi è sembrata curiosa come cosa quindi di solito ti dava le statistiche sul tuo conto no quanto è speso in supermercato quanto è speso in fan no ti dà un po una la torta delle tue spese no dall'ultima versione dell'app ti dice quanto spendi in ogni categoria versus tutti gli altri clienti di intesa come te ah cioè tu spendi nei confronti sì tu spendi in benzina 20 per cento in più della media di tutti gli altri clienti di intesa col tuo stesso profilo non so bene a cosa serva a farti sentire più o meno a posto figo sì esatto no ma guarda spendo troppo in discoteca però ecco diciamo date 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 un'occhiata a questa cosa perché secondo me vi apre un po su una panoramica ma hai visto velocissimo è un link che ci è arrivato su instagram da da nicolas nicolas capasso che ci ascolta ha un podcast che si chiama tales from ho visto ho visto seattle e prendi in ogni puntata parla di di un tema diverso di quel mondo lì di quel periodo lì e c'è la la storia del grunge molto interessa divisa anche in capitoli le origini il business del grunge iper gem in irvana carino come lo butto lì che visto che ti interessa il tema mettiamo il link mettiamo il link sì sì ma me lo ascolterò ho visto ho guardato il contenuto delle puntate ma non ho ancora avuto tempo di ascoltarlo scelta smart se non sbaglio le puntate sono tutte 8 10 12 minuti sì non sono lunghissime anche questo è un tema interessante rispetto a parlando di podcast con puntate lunghissime cioè ecco la mia raccomandazione di questa settimana si parla di podcast da puntate da un'ora e mezza due ma scusate sto un po' in fissa con team ferris in sto periodo ti vedo che sei un po' una gruppi diventato no ma non lo ascoltavo perché vedevo che le puntate erano troppo lunghe no adesso ho fatto questa cosa qua ho guardato sono andato un po' indietro nelle puntate alla ricerca di nomi particolari che potevano interessarmi ho trovato la gente pazzesca cioè chuck palaniuk harari edward norton cioè gente di altissimo livello e un pro una degli ultime è l'intervista a sir dyson ah ecco perché volevi parlare di aspirapolveri ha intervistato dyson la vuoi sentire un po' la storia è incredibile sì 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 vai praticamente lui ingegnere si ricorda da piccolo che in casa aveva un aspirapolvere il classico aspirapolvere quello col sacchetto di carta dietro e cosa succedeva si intasava sempre dopo un po che si intasa non funziona più non ha più potenza salto in avanti quando lui diventa adulto e stesso problema ma com'è sono passati 30 anni e non è successo niente nel campo delle aspirapolveri ci penso io no cioè voglio risolvere questo problema cioè si parte sempre dal problema no dicono pensa ai tuoi problemi personali a cosa ti angoscia e da lì costruisci magari qualcosa cioè poi pensa ai suoi genitori cioè studia non pensare all'aspirapolvere non diventerai mai miliardario con l'aspirapolvere lui inizia a provare a risolvere questa cosa e fa dei prototipi sai quanti prototipi fa del aspirapolvere perfetto diciamo credo una roba tipo tra i 600 e i 1000 può essere no 5000 prototipi ha fatto ecco vedi in anni perché lui dice questa cosa giustissima devi in ogni test cambiare una sola variabile no ok perché se ne cambi più di una e funziona o non funziona non sai qual è delle due è un casino quindi cambia una piccola cosa alla volta ne fa 5000 ci spende così tanto tempo così tanti soldi da essere costretto a un certo punto a ipotecare la casa tra l'altro una casa pulitissima perché pulitissima la morale che non se lo cagava nessuno cioè una volta che lui è riuscito a fare questo prototipo cosa fa siamo degli ingegneri noi erano in tre credo non sappiamo vendere quindi andiamo da chi già fa gli aspirapolveri in licensing quindi diciamo ti ti come dire ti diamo il nostro super motore lo metti nei tuoi prodotti tutte porte in faccia perché nessuna azienda in sostanza aveva voglia di innovare questo aspirapolvere ma scusa vendiamo un aspirapolvere no ma vendiamo una cifra con sti cavolo di sacchetti ogni volta che si riempiva il sacchetto dovevi buttarlo e comprare uno nuovo ma perché dobbiamo metterci una roba che funziona signor dison grazie allora cosa fa lo faccio e vado dai negozi salta salta tutta la propone ai negozi questo dison che già ai tempi costava quattro volte di più del costo medio di un di un aspirapolvere si costava 50 dollari la media il suo costava 200 ma se cosa gli rispondono i negozi no ma perché no costa troppo e dicono allora i ricchi non puliscono la casa e quindi non scelgono loro il signor dison non funziona neanche qui ma gli aggiungono una cosa molto carina ma poi scusa il tuo aspirapolvere a parte che non ha sacchetto vabbè aveva lo scatolotto trasparente anche adesso succede no aspiri e vedi la polvere che entra in questa no questo box ma la gente non vuole vedere lo schifo che tira su ma perché l'hai fatto trasparente no e lui risponde che in realtà il fatto di vedere il risultato della tua fatica del tuo sbattimento è una forma di ricompensa per cui secondo lui è forse vero vedere io se viene sulla polvere le briciole entrano lì dentro si muovono io ho un clone del daison perché sono nella fascia povero e no credo una roba italiana e però l'ha finito di no poi io avendo due gatti insomma ogni volta devi ispirare tutte le mattine la cosa sa che mi fa veramente ogni volta la mia la mia sfida personale ogni mattina quando svuoto il sacchetto che si forma una palla perfetta ma perfetta di di pelo di gatto e di polvere che mi dà soddisfazione tutto qua si potrebbe chiamare un nuovo filone dust porn come c'è il food porn potrebbe ma sicuramente c'è foto di polvere sicuramente c'è per chiudere lui dice vabbè solita citazione di ford la conosci se avessi chiesto alle persone cosa volevano mi avrebbero risposto cavalli più veloci no lui aveva questa questa idea ci vedeva qualcosa e comunque lui ammette per quanto lui sia ingegnere preciso tutto sulla fattibilità ti dice guarda su questo tipo di cose devi non te la so spiegare non c'è una regola devi un po seguire l'istinto il cuore questo quello dice lui c'è una grande secondo me è una terza cosa che lui forse non ha detto per seguire l'istinto seguire il cuore e poi nel suo caso poi particolarmente devi avere una grande aspirazione no è molto interessante però in generale sono interessanti le storie di queste di queste persone perché un po sono appunto aspirazionali scusa questa volta non volevo ridirlo però in generale è proprio cioè è bello perché puoi imparare da tutti i loro errori da tutta quello che io mi chiedo sempre nel tuo racconto mi chiedevo era in tutti questi anni come si mantiene questa gente no certo molto spesso c'hai tipo no perché mia moglie di test dici sì tutti gli anni prima di sfondare no è arrivato a ipotecare la casa cioè proprio disperato esatto quindi capito e quella cosa lì secondo me è un grande deterrente per l'innovazione e si apre un tema gigantesco rispetto alla sostenibilità delle persone comunque creative no cioè perché è difficile cioè nel senso che come faccio io a vent'anni prima che il dyson esploda dirti cavolo quella persona lì ha ragione io devo sostenerla no come fai certo e questo è un grosso tema è un grosso tema di visione no e di fiducia che puoi che puoi avere dalle persone ma anche tu stesso sulla tua idea cioè cavolo cinque anni 5.000 test sbagliati c'è la storia di dyson ci sono magari altri milioni di storie che non conosciamo di gente che si è rovinato la vita a sbattere la testa su quell'idea che poi non ha non è esplosa probabilmente e questo è l'altro tema è sì ma questo è l'altro esattamente l'altro tema cioè il tema del per dieci persone che ce la fanno quante ce ne sono no di storie meravigliose ma che non vengono raccontate perché non c'è happy ending e quanto tra virgolette male possono fare queste storie se come dire una persona dice beh ma ce l'ha fatto io ce la faccio anch'io e non riesce entra in un loop in cui non riesce a rendersi conto che quella strada non è quella giusta è molto 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 forte come come cosa senti ti do un link interessante conosci questo tizio che si chiama Jeff Bezos ho già sentito parlare allora lui è uno dei finanziatori di questo altos labs non so se hai letto qualcosa tra le sue varie cose altos labs cioè fondamentalmente è una startup che mira a creare insomma l'immortalità fondamentalmente ma ci aveva provato anche google no o no no google ci sta calico mi pare che si chiama quella loro si e no no ci stanno continuando chiaramente è un nuovo grande filone di investimento no sai che va a cicli no c'è prima no le macchine elettriche poi adesso c'è un grande investimento sulla e commerce adesso lui spazio e immortalità longevità cioè giustamente ai 200 miliardi di dollari per cui insomma non anche se vivi fino a 120 anni non è un problema ai 57 anni se non sbaglio non pensi che di essere immortale che dovresti vivere a lui dice che sta spendendo i soldi per diventare immortale beh diciamo gli esperimenti sono poi linkiamo all'articolo però basta googleare ci sono un sacco di articoli anche in italiano la cosa interessante questa scoperta rivoluzionaria cioè praticamente con l'aggiunta di quattro sole proteine ok le cellule possono essere istruite a tornare a uno stato primitivo sto leggendo e si sente con le proprietà delle cellule staminali embrionali ok che io ti dico ho capito qualcosa no quello che ho capito ho capito che hanno fatto dei hanno applicato queste questi fattori a interi topi viventi ottenendo segni di inversione dell'età e portando a definire la riprogrammazione di un potenziale e lisili di lunga vita per cui diciamo la scienza insomma le ricerche sono ad un passo veramente non dico vicino all'immortalità però tutto questo cercare di frenare la mortalità è un tema molto 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 caldo tutto questo perché perché io diciamo in generale non vorrei vivere più di quello che mi sarà concesso ok cioè non vorrei sapere di poter vivere non dico per sempre ma anche solo fino a 100 120 anni comincia a magari anche in buona salute o comunque diciamo no già adesso le persone di 75 70 80 anni se hanno fatto hanno avuto la fortuna di fare una buona vita non sono i 70 80 anni di 20 30 50 anni fa però questa cosa qui apre un discorso incredibile su come andrebbe ristrutturata la società se se tu avessi la certezza di vivere fino a 120 anni in buona salute ok immaginati la tua vita torna torna da zero bambino asilo studi eccetera diciamo che fai l'università esce a 25 26 anni e mo esatto hai 100 anni di lavoro davanti 80 anni di lavoro davanti di lavoro eccetera che poi devi sostenerti certo e questo lo devi aggiungere un altro ragionamento cioè in quante volte è cambiato il mondo del lavoro negli ultimi non dico 20 anni ma 10 anni quante invenzioni ci sono state quante persone hanno perso il lavoro questa scoperta e poi devi utilizzare questi anni in più regalati dalla scienza per lavorare però tu così ragioni che quelli che dicono vedo l'ora di andare in pensione perché non gli piace quello che fanno se ti piace quello che fai sì ma è un problema proprio di sì 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 sostenibilità sì ma anche ricambiare il mindset della tua vita non è più non è che finisci di studiare cioè devi studiare tutta la vita devi cambiare lavoro ogni 5 6 anni devi capire le case saranno saranno uguali penserai case che durano campi di bocce ovunque sì esatto però è veramente una cosa molto molto interessante fa anche un po un po paura vabbè chiuso qua no rispetto a questi temi adesso non c'entra con l'immortalità non è una notizia recente ma mi sono imbattuto e ho approfondito il tema dei metahuman metahuman sono dei personaggi digitali virtuali sviluppati da epic games è quella società che tra i vari giochi sviluppa fortnite è arrivato attraverso questo motore di sviluppo che si chiama unreal da la possibilità a tutti di disegnarsi questi personaggi che non esistono ma hanno un grado di realismo impressionante te lo faccio vedere perché non è un avatar è proprio un personaggio in 3d che puoi animare e tra l'altro puoi collegare anche il tuo telefono che riconosce le tue espressioni e vengono trasferiti direttamente al metahuman guarda ti mando un link per farti vedere sto guardando sulla sinistra c'è un ragazzo che fa delle espressioni le espressioni vengono lette dal dallo smartphone e sulla destra c'è in tempo reale questa ragazza che fa le stesse espressioni ma se tu vedi solamente il video sulla destra vedi solo la ragazza cosa diresti? stiamo ad un livello ormai molto molto vicino alla percezione cioè qualcosina se stai molto 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 attento ti accorgi ma basta solo che tu faccia un video e lo rendi fintamente un po' più da lontano o fintamente sgranato e non c'è non puoi accorgerti di niente qui non è il mondo del deepfake no? qui è tutto il mondo del se tu infatti ci ho spippolato un po' se tu apri questo software ti dice cosa vuoi sviluppare un videogioco vuoi fare un video di architettura vuoi fare un film per cui è come se questo mondo questa tecnologia dei videogiochi si sta spostando sempre di più verso il mondo del video del cinema per cui si arriverà probabilmente perché devo prendere un attore no? è molto figo come argomento mettici anche tutti questi appunto non so come si anche lì si chiamano chiamano i meta human anche questi sono un sacco di influencer no? creati da varie società e che hanno milioni e milioni di follower per cui diciamo è come se le nuove generazioni fossero pronte a questo salto del addio attori addio no? cioè nel senso che sono contento di essere dall'altra parte dello schermo cioè di chi comunque dovrà produrre contenuti e non di chi dovrà interpretarli perché sicuramente adesso non credo che sparirà mai il mestiere dell'attore però nel momento in cui mi chiedi 10 milioni di dollari per fare una cosa e posso farmela io col computer di casa tra virgolette e ti butto lì velocissimo un link scroccato da Gaito salutiamo tra l'altro che ci ascolta si chiama sintesia che è questo questo sito dove tu digiti un testo scegli un personaggio che interpreta il tuo testo e anche lì altamente realistico quindi hai un video tutorial quelli classici in cui c'hai le slide da una parte il volto di una persona dall'altra che dice qualcosa scrivi scegli la voce scegli la faccia ecco l'attore che fa i tutorial nei video di benvenuto in azienda queste sono le regole ecco quello lì probabilmente fra un po' al lavoro non servirà più dopo questo software no ci sta ci sta cambio cambio totalmente argomento anche se rimaniamo sempre in ambito digitale perché c'è questa notizia che mi ha fatto molta molta impressione per tanti motivi e cioè quella di Salman Rushdie che è uno scrittore insomma che conosciamo dai versetti satanici insomma eccetera che il prossimo romanzo lo pubblicherà sulla piattaforma Substack quella delle newsletter che è interessante per molti motivi no perché evidente da una parte si torna a capito Madame Bovary, Guerre e Pace cioè tutti i libri usciti sui giornali a puntate che lo sapevo io questa cosa spero di aver citato due romanzi che fossero giusti ma a memoria mi pare di sì però insomma molti molti romanzi famosi sono usciti nel 700 800 eccetera sui giornali a puntate quindi qua si torna da una parte da una parte si va indietro di 300 anni 200 dall'altra si va avanti di 50 perché fondamentalmente tutti come scarichi la posta e ricevi la newsletter ricevi anche il capitolo successivo del romanzo che stai scrivendo che stai leggendo e paghi scusami a capitolo non è ancora uscito quindi non è un annuncio non è ancora capitolo annuncio però di solito sì su Substack hai varie cose no cioè quella parte gratuita faranno probabilmente un paio di capitoli gratuiti e poi per chiudere e mi ricordo e anche qui devo trovare il link lo linkchiamo che il primo ancora molti molti anni fa era stato Stephen King a provare a fare questa cosa e lui l'aveva fatto un po' alla Radiohead cioè praticamente pubblicato l'album di Radiohead pagatelo quanto volete scaricate sì sì mi ricordo Rainbow era forse Stephen King aveva fatto la stessa cosa cioè io vi scrivo un capitolo alla volta se lo pagate andiamo avanti altrimenti no e si era fermato perché si era fermato perché la cosa non aveva funzionato ma che cazzo dammi il libro però ecco diciamo il tema molto ampio delle newsletter io mi rendo conto che adesso il non voglio esagerare ma credo il 60 70 per cento delle mail che ricevo sono newsletter che mi sono selezionato nel tempo che mi sono capito mi abbono e mi disabbono tantissime perché però ce ne sono alcune mi rendo conto che magari escono il venerdì o il sabato che aspetto con un quale per esempio una è Recomendo Recomendo sì che è una newsletter di Kevin Kelly e altre che sono 5-6 cose molto no bullet point papapapa però ha dei link molto molto interessanti un'altra che invece aspetto che è quotidiana è Morning Brew che ha un sacco di notizie su notizie dal mondo però sempre con un occhio al digital un occhio alla parte business però molto molto interessante scritta in inglese benissimo perché è molto divertente molto leggera molto grafica e fanno un lavoro della madonna ma ci hanno milioni di abbonati abbonati ed è free quindi è la consigliatissima vabbè poi ce n'è una che tu conosci molto bene no io lunedì aspetto gli appunti di hacking creativity una roba è una roba mi arriva l'anticipazione la domenica e poi me la leggo tutta lunedì no tra l'altro iscrivetevi se avete voglia sì sostanzialmente lasciate l'email trovate il link nella descrizione e tutti i link di cui parliamo più altri che Federico aggiunge così a gratis vi arrivano via email così non dovete prendere appunti mentre passate l'aspirapolvere ma insomma ce l'avete lì pronti per quando vi servono caro mi sa che tocca a te se hai altri link ma io andrei sull'ultimo no visto che parlavi di newsletter io leggo quella del New York Times ok è arrivata una visual investigation del New York Times sull'attentato a Kabul questi giornali hanno un team di giornalisti che utilizzano riprese magari catturate da più persone presenti su un posto e le mettono insieme attraverso un software che diciamo gli dà una sorta di linea temporale ma anche una posizione geografica alle riprese che vengono raccolte per cui riescono a utilizzare anche qua una roba sembra fantascienza un modello 3d per cui dicono ok guardiamo in questo minuto cosa sta accadendo in quella telecamera ok stacchiamo su quest'altra telecamera uniscono filmati registrati con il cellulare a filmati di video sorveglianza che riescono in qualche modo a ottenere quindi riescono a riraccontare la storia la notizia in maniera più specifica rispetto a quella che insomma è stata pubblicata dalla maggior parte dei giornali bello in realtà no non è sull'attentato scusami l'analisi è sull'attacco con il drone fatto dagli americani subito dopo l'attentato ok senti mi dai un assist per chiudere su una cosa che mi ha ottenuto lì visto che hai parlato di di kabul e di afghanistan non mi ricordo da quale newsletter ma a un certo punto ho trovato questo link che mi ha veramente riempito il cuore perché si tratta di si chiama 1000 dreams project fondamentalmente sono mille storie ok di rifugiati da varie parti del mondo che hanno ricominciato una vita da qualche altra parte raccolte da rifugiati ok e ci sono delle foto stupende delle storie ancora più belle un'immersione nell'umanità nelle storie pazzesche di gente ah bello di gente che ha la foto del personaggio e la storia e la storia tipo è un po' humans of new york se vuoi esatto e le storie sono incredibili anche qui come sempre bacino pazzesco anche di storie se scrivete cioè se ah sì sì inventate voi stessi storie col solito col solito metodo cioè si prendono di rubare dalla realtà giustamente sì sì ma anche di combinare capito cioè probabilmente trovi che c'è una persona che ha subito delle no delle discriminazioni per il suo orientamento sessuale in bielorussia la mixi con una ragazza che no e ti viene fuori un personaggio nuovo è una storia nuova quindi questa è una cosa che si consigliamo si fa si fa bene che dici? a posto a posto no e chiudiamo dicendo che appunto come abbiamo detto all'inizio vi informiamo su tutti i passi che faremo per rendere sostenibile questo podcast per cui insomma rimanete lì pronti iscrivetevi agli appunti l'ha detto prima Edo ci vediamo mercoledì prossimo almeno che arrivi un altro un'altra puntata così scheggia impazzita fantastico alla prossima ciao ciao